La segreteria del Partito Democratico di Marsala augura buon inizio di lavoro a Enrico Letta, uno sentito grazie a Nicola Zingaretti per aver guidato il Partito Democratico in un delicato momento di emergenza sanitaria, economica e sociale. Tanti temi aperti da Enrico Letta, salute, lavoro, lotta alle disuguaglianze sociali, opportunità per le donne, inclusione, formazione politica, università, giovani, pubblica amministrazione, sostenibilità, lotta ai paradisi fiscali europei, idee nuove in economia, importanza del volontariato, riapertura del dialogo sociale sui territori dove il Partito Democratico deve diventare il partito della prossimità. Le finalità è quella di fare un passo in avanti con una squadra credibile. Letta conosce abbastanza bene il terreno dove si accinge a muoversi, ne conosce lo sfondo e le problematiche e pone l'obiettivo di un confronto plurale, aperto e solidale. Certamente il testimone preso da Enrico Letta nella qualità di segretario nazionale del PD conclude il comunicato a firma di Rosa Alba a mezza pelle e una sfida difficile che verrà decretata dal PD locale come una scelta da condividere e su cui contare per lanciare un PD competitivo.